Per v posso o prima moltiplicare lambda per mu e poi il risultato per v, oppure prima moltiplicare mu per v e poi moltiplicare il risultato per lambda. E infine, l'uno dei numeri reali funge da elemento neutro, cioè 1 per v è uguale a v. Quindi, che cos'è uno spazio vettoriale? È un insieme arricchito di più operazioni. In particolare, abbiamo un'operazione interna all'insieme stesso, che si chiama somma, ed è simile alla somma che noi ci immaginiamo se pensiamo a due numeri, due numeri reali, due numeri interi e così via. Ovvero, gode delle proprietà associativa, commutativa, esiste lo zero ed esiste l'opposto, l'inverso rispetto alla somma che noi chiamiamo l'opposto. In più c'è un'altra operazione, che è quella di prodotto per uno scalare. Quindi io prendo un vettore e lo posso moltiplicare per un numero reale. E quello che ottengo gode delle proprietà che abbiamo appena esposto. Vediamo subito alcuni esempi. L'esempio più intuitivo di cui possiamo parlare è dato dal piano cartesiano. Infatti, i punti del piano cartesiano, x, y, formano uno spazio vettoriale reale. Innanzitutto vediamo qual è l'insieme che si definiscono. Ogni punto può definire un vettore che noi indicheremo scrivendo le coordinate x e y del punto in una colonna. Quindi possiamo andarlo a rappresentare come in questa figura. Se il nostro punto ha ascissa x e ordinata y, io disegno un vettore che rappresento come una freccia che parte dall'origine e arriva nel punto P. Questo vettore, appunto, lo indico con la colonna x, y. Vediamo adesso quali sono le operazioni da definire su questo insieme, su questo spazio vettoriale. Cioè la somma è il prodotto per uno scalare. Partiamo dalla somma. Se noi abbiamo due vettori v e w, possiamo costruire un parallelogramma, si dice, generato da questi due vettori, ovvero questa figura che ho rappresentato in rosso. La somma sarà data dalla diagonale che parte dall'origine ed arriva sul vertice opposto del parallelogramma. E si può verificare che le coordinate della somma non sono altro che la somma delle coordinate di ciascun vettore. Quindi v più w avrà coordinate vx più wx e vy più w y. Per quanto riguarda il prodotto per uno scalare, anche in questo caso posso fare la stessa cosa. Quindi λ moltiplicato per v non è altro che λ vx, λ vy. Ma andiamo a vedere che vettore ho trovato da un punto di vista grafico. Quello che faccio è, parto dal mio vettore v e ottengo un vettore che si trova sulla stessa retta contenente v, ma quello che cambia è la sua lunghezza. La lunghezza viene moltiplicata per questo scalare λ. Così, se λ è un numero positivo, per esempio 2, il vettore 2v è un vettore che parte da 0 e ha lunghezza pari al doppio della lunghezza di v. Oppure, se λ è uguale a meno 1, ottengo il vettore meno v, che non è altro che il vettore opposto, ovvero un vettore che si trova sulla stessa retta che contiene v, ne ha la stessa lunghezza, ma ha verso opposto. Con lo stesso trucchetto di definire le operazioni componente per componente, non abbiamo motivo di limitarci ad una sola coppia di coordinate e possiamo definire e dare una struttura di spazi vettoriali anche a r3, r4, eccetera, eccetera, rn qualunque sia n. Quindi, la prima famiglia di esempi di spazi vettoriali, nonché la famiglia principe, quella con cui andremo a lavorare in questo corso, è data da r alla n. r alla n vuol dire prendere n copie dei numeri reali, quindi se n è uguale a 2 otteniamo un piano, se n è uguale a 3 otteniamo uno spazio tridimensionale, se n è più alto otteniamo un iper spazio n dimensionale, dove ogni elemento, ogni numero che compare nella colonna che noi utilizziamo per esprimere le coordinate del vettore rappresenta appunto una delle dimensioni. La somma e il prodotto per scalari si definiscono sempre componente per componente e non è difficile verificare che tutte le proprietà che abbiamo elencato all'inizio sono rispettate. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao! Vediamo un altro esempio. Anche i polinomi formano uno spazio vettoriale. Cos'è un polinomio? Fissiamo un numero n che chiameremo grado. Sarà un numero maggiore o uguale a 0, intero. Diciamo che un polinomio di grado n è una scrittura di questo tipo. Quindi abbiamo un numero per x alla n più un altro numero per x alla n meno 1, eccetera, eccetera, sino ad arrivare ad x e poi al termine noto, quello in cui la x non compare. Quindi una scrittura del genere è un polinomio a coefficienti reali nella variabile o incognita x. I numeri a 0, 1, n sono qualsiesi, sono numeri reali qualsiesi, però se diciamo che il grado è n, stiamo sottintendendo che il primo coefficiente, questo a con n, sia diverso da 0. Invece, assumiamo anche che a n possa essere uguale a 0, otteniamo i polinomi di grado minore o uguale a 0. Questi, insieme al polinomio 0, che se pensi alla definizione di grado, non è un polinomio che ha grado, e quindi lo dobbiamo aggiungere d'ufficio, formano uno spazio vettoriale. Come si fa la somma tra polinomi? Si vanno a sommare tra loro i coefficienti dei termini dello stesso grado. Quindi le coordinate di un polinomio possiamo vederle come i coefficienti. Allora, lo spazio dei polinomi di grado minore o uguale a n, quanti coefficienti ha? Da 0 ad n sono n più 1 numeri reali. Quindi non abbiamo altro che una copia di r alla n più 1. In altre parole, noi possiamo prendere un polinomio ed incapsularlo in un vettore con n più 1 coordinate date dai suoi coefficienti. E la somma si comporta esattamente come la somma in r alla n più 1 e idem per il prodotto per scalari. Vediamo poi un terzo esempio che ci ritornerà molto utile nella prossima lezione. Le matrici. Cosa sono le matrici? Si tratta di tabella a doppia entrata, come questa che ho disegnato qui, di dimensione n per m, dove n è il numero di righe, in questo caso abbiamo due righe, ed m è il numero delle colonne. Quindi la matrice che ho disegnato qui è una matrice 2 per 3. Naturalmente possono esistere matrici di dimensione n per m con n ed m, numeri naturali qualsiasi. Le matrici di dimensione fissata formano a loro volta uno spazio vettoriale dove, ancora una volta, la somma e il prodotto per scalari sono definite coefficiente per coefficiente. Il numero di coordinate è dato dal prodotto n per m. Bene, abbiamo quindi introdotto i protagonisti delle prime tre lezioni di questo corso, i vettori, gli spazi vettoriali. Abbiamo visto come fare per definire alcuni esempi, abbiamo visto come si definisce la somma, come si definisce il prodotto per scalari. Quello che faremo nella prossima parte sarà andare a vedere come confrontare quali sono le operazioni principali che possiamo fare all'interno di uno spazio vettoriale. Parleremo quindi di combinazioni lineali, di vettori dipendenti e indipendenti e di prodotto scalare. A presto! Bene, questa è solamente la prima parte del corso che abbiamo creato. abbiamo deciso di pubblicarla per comunque darti del valore gratuito e darti delle informazioni che ti possano servire. Se vuoi il corso completo, ti ho lasciato sotto il link, basta cliccare, andrai nella nostra piattaforma e-learning e lì troverai il video corso completo. Ciao!